«Aio, ti ho, ti ho anche non piano, ti ho un piano di questo vestito.» «Niente più niente al mondo. Riuscirò a togliere le macchie da questo vestito.» Ormai, poco male intanto questo vestito, però non ci sono i 12,90 euro. Senti, io per esempio ho stato attento a risparmio. Ma che è duro, devo dire il primo riso. C'era lei che consumava tutto. Sì, prima con Giorgio Arturo aveva la parola da me del gioco. Noi, io chiamavo abbastanza bene. Io andavo al servizio solo per 8 settimane. Ma solo per le 5 stelle, per le mie e la bambina. Guarda quando l'hanno cercato, io ho fatto il servizio tutta la settimana. Non è lì, ma è lì, è lì, c'è lì, c'è lì, c'è lì, c'è lì, c'è lì. Certo, avrei potuto fare altri po' di lì. E allora c'è la casa da mandare avanti e la bambina da seguire. Eh sì! Perché se tu la lasci sola, il bambino è incinta. Dopo i 13 anni la devi seguire. Lei può trovare ogni minuto. Con i figli maschi. E' meglio. Non fattere come questi. Perché i giri hanno meno preoccupazioni. Perché? Con il maschio. Se tu non riesci e non fai comunque. Non finisce in galera. Poi va a studiare. Quando finisce. Anche se il bambino parla. Sì, quello è un bel padre. E viene fuori un'altra famiglia di sfigati. Come la nostra. Ma con la... E' diverso. Sì, perché quando si nasce. Se non c'è nessun fungo. Procediamo alle cose giuste. Giuste. E' un bel padre mia. Ho metato mai la soddisfazione. Ma nemmeno una. Ho metato mai.